Campus e cittadella sanitaria sono due operazioni collegate e che insieme valgono 100 milioni di euro. La città di Como deve fare un passo per volta, altrimenti resta tutto fermo. Roberto Bollina, direttore generale dell'AS di Como, lancia un appello ai comaschi all'indomani della notizia che ha fatto calare nuove nebbie sulla cittadella sanitaria. L'ex ospedale Sant'Anna, come noto, avrebbe dovuto essere trasformato in un polo di servizi sanitari diviso tra ASL e azienda ospedaliera Sant'Anna, ma è ancora tutto fermo. Ieri Regione Lombardia ha confermato il sostegno al progetto ma non ha parlato di risorse o meglio, appare ormai chiaro come per finanziare l'opera dal costo complessivo di 30 milioni di euro sia indispensabile vendere ampie porzioni dell'ex ospedale di Via Napoleona. Un anno e mezzo fa, spiega Bollina, ci stavamo muovendo per la cittadella sanitaria poi l'attenzione si è completamente spostata sul campus e poi ancora sulla cittadella Como dovrebbe fare un passo alla volta. Campus universitario e cittadella sanitaria sono collegate l'ASL infatti ha diverse strutture, tra le quali il consultorio, all'interno dell'area di San Martino dove dovrebbe sorgere il campus universitario ma ancora non è chiaro se e quando saranno disponibili i soldi per iniziare il campus. In questo clima di incertezza, fa intendere Bollina, tutto resta fermo. Como dovrebbe iniziare a realizzare i progetti piuttosto che continuare ad annunciarli per partire con la cittadella sanitaria abbiamo bisogno di due elementi continua il numero uno dell'ASL primo una risposta sulla realizzazione del campus, quale che sia e poi le risorse, senza i soldi della vendita dell'ex Sant'Anna non si muove nulla. Bollina conclude dicendo di essere pronto al trasloco a patto però che la città dia una risposta sul campus e che ovviamente arrivino le risorse economiche necessarie. Sull'argomento è poi intervenuto anche Mario Lucini, sindaco di Como. A breve chiederò un incontro con Regione Lombardia, ha detto il primo cittadino ma confermo che la cittadella sanitaria resta un obiettivo prioritario per la città. anche con gli istituti di vigilanza private consentirà sempre attraverso poi le forze e anche con gli istituti di vigilanza private consentirà sempre attraverso un obiettivo prioritario per la città.